Mi piacerebbe tantissimo farvi capire che cosa non è la promozione, quindi andare sulla negazione, cioè cercare di comprendere che cosa non dobbiamo considerare risultato promozionale, invece cosa deve essere considerato, considerabile e possiamo definire oggettivamente come risultato professionale. Quindi, professionale, scusate, vedete, il bias promozionale. Su Music Business Italia sapete che questo sarà il mese dedicato all'autopromozione, per cui andiamo avanti con questo tema che è veramente enorme, veramente tosto, veramente difficile, ma altrettanto fondamentale. Allora, ci tengo a partire, prima di parlarvi di questi bias che vengono a crearsi quando sbuca il termine promozione, ci teniamo subito a fare chiara una cosa. Se guardi Music Business Italia è perché sei una persona che ha maturato delle competenze o sta maturando delle competenze, vuole capire quali sono quei meccanismi che, in ultima analisi, servono per entrare nel mondo professionale. Quindi noi, quando parliamo di promozione, non intendiamo il termine promozione, non so come dire, relativo a aspetti di visualizzazioni, visibilità, migliaia, milioni di ascolti, capillarità a livello proprio di quante persone seguono la mia pagina, i miei social, i follower che ho, non è nulla di tutto questo. Quindi ci tengo a specificarlo per allontanare, visto che quando si parla di promozione arrivano le orde di ragazzini che cercano, voglio successo, voglio successo, voglio successo. Noi qua parliamo a persone che vogliono fare musica di professione, vogliono capire quali sono gli elementi che ci portano a questo risultato. E sicuramente la promozione, intesa come la intendiamo noi, è un aspetto cruciale. Per cui questo ci tenevo proprio a specificarlo. Ma andiamo oltre. Mi sono fatto anche degli appunti, qualora mi dovessi, per non rischiare di perdermi questi argomenti che sono veramente complessi. Allora, un primo problema è che nel mondo della musica, nel mondo artistico, quando si parla di promozione parte il bias cognitivo. Cioè, innanzitutto, che cos'è, per chi non lo sapesse, un bias cognitivo? È una scorciatoia che il tuo cervello, ma anche il mio, ok, il generale, il cervello, ok, delle persone, ok, degli esseri umani, prende, quindi sono scorciatoie, che servono per prendere decisioni, non so come dire, in un tempo estremamente breve. Cioè, addirittura ci sono tanti studi rispetto a questo argomento, e alcuni sono molto affascinanti. Ad esempio, dovrete sapere che il 90, più del 90% delle azioni, ok, delle scelte che voi prendete quando vi trovate di fronte a un bivio, è quasi sempre inconscio. Cioè, voi pensate di scegliere consciamente, ma la realtà è che subentrano tutta una serie, appunto, di bias cognitivi. Perché è importante parlare di bias cognitivi? Perché le persone associano alla parola promozione un concetto o una serie di concetti errati, cioè fama, visibilità, successo, visualizzazioni, milioni di ascolti, i follower, quanto sono seguito, i live. Cioè, è una questione di, appunto, possiamo chiamarla in termini generali di successo in termini di visibilità, successo in termini di esposizione, che è una conseguenza, in realtà, di un processo promozionale. Quindi, è un po' come se noi, per proprio bias cognitivo, andassimo, boom, diretti, e quindi nella nostra mente associa, ah, ok, se si parla di promozione, si parla, ad esempio, nel concreto, per fare un esempio, di promuovere un brano, di promuovere un singolo, di promuovere un disco. Ecco, la realtà è che questo non è vero, cioè, esistono varie tipologie di promozioni, ok? Esistono quattro pilastri promozionali, ok? Di cui uno dei quattro è la promozione artistica, dove rientra, ad esempio, la promozione dei prodotti musicali, ma ci sono tutta una serie di altri pilastri che devono essere considerati. Ma oggi non voglio parlarvi di questo, voglio parlarvi più nello specifico di che cosa dobbiamo andare e quali sono quegli aspetti da considerare quando parliamo di promozioni che hanno un certo tipo di efficacia. Allora, vi faccio un parallelismo. Questo parallelismo potrà fare incazzare molti di voi, ok? Quindi, logicamente, io mi preparo, ok? Allora, se noi ci pensiamo, nello sport, che cosa determina la vittoria di una squadra piuttosto che un'altra? Oppure quali sono quegli elementi che permettono di determinare chi all'interno di quel giuoco, di quella partita, vince? I punti. Quindi, che cosa significa? Che, ad esempio, una partita di calcio ha senso nel momento in cui c'è un punteggio, e quindi ci sono dei gol che possono stabilire qual è la squadra vincente. Potrei farvi un parallelismo sempre sportivo diverso. Cioè, un centometrista avrà come indicatore, ok, del suo successo o del suo fallimento, tra i tanti indicatori, anche l'indicatore temporale. Cioè, in quanto tempo io faccio centometri. Quindi, se voglio fare il record del mondo, dovrò stare sotto un certo dato temporale, no? E allora io vi faccio una domanda, e su questo vorrei veramente chiedervi questo. Cioè, qual è il dato che determina il successo di una promozione? Cioè, se noi pensiamo al termine promozione, lasciate veramente, anche se lo so che probabilmente non lo farà nessuno perché vi vergognate, provate a rispondere a questa domanda mentre io vi dico tutto questo. Cioè, qual è quel dato che nessuno, soprattutto nel settore della musica, nessuno valuta come metro, come dato oggettivo, per stabilire l'efficacia di una data azione promozionale? Provate a pensarci. Lasciate dei commenti. Io aspetto, eh. Se non lasciate dei commenti, non ve lo dico. Cioè, quindi, mi aspetto di arrivare a questo punto e vedere delle persone che commentano. Bene. Ve lo dico. L'economia. Cioè, cosa significa? Che in ultima analisi, se vogliamo parlare di professione musicale, e vogliamo parlare di professionismo, e siamo qui su Music Business Italia per capire che cosa significa essere professionisti all'interno di un settore della musica e quindi come possiamo intraprendere delle azioni per arrivare a quel risultato, sono i punti economici. Cioè, una promozione, un sistema promozionale che non genera economia, è un sistema promozionale che non ha senso. Cioè, e qui io vi voglio, vi voglio, perché vi voglio dire questo? Perché vi accorgerete quando inizierete ad avere i vostri risultati che questo aspetto è un aspetto cruciale. Cioè, le persone, ad esempio, tendono a definire come risultato quante visualizzazioni ottengo, quanto tipo di esposizione. Nessuno valuta il rapporto. Cioè, cosa vuol dire? Che, ad esempio, se nel mio processo e nel mio processo promozionale non raggiungo un risultato economico, che senso ha promuoversi? E voi direte eh, vabbè, ma l'arte non è mica è solo economia. Ah, no? Non è economia. Ah, perché fare i dischi non costa nulla? L'attività che voi avete intrapreso, per esempio, per studiare, quindi l'economia che voi avete investito nel vostro piano di studi, indipendentemente da quale sia, se sia il conservatorio, la scuola, professionalizzante, il migliore insegnante privato, eccetera, non ha un costo? Cioè, non c'è stato un investimento dietro a tutto questo, a tutte queste attività, quindi, di base, possiamo sviluppare la nostra professione, la nostra parte artistica, che ripeto, è uno solo dei pilastri che devono, non so come dire, che devono costituire il professionista, e non per niente la promozione artistica è solo uno degli aspetti promozionali, ce ne sono, come dicevo, quattro in totale, che nessuno considera. Come faccio se non ho economia a sviluppare la mia professionalità, i miei progetti, la mia quotidianità, la mia vita? Cioè, stiamo parlando di lavoro, non stiamo parlando di, cioè, avere il disco d'oro, il disco di plate, me ne frega un tubo, e anche qua, dovete imparare, quindi ad avere un occhio di riguardo verso quelle che sono e quali sono quelle metriche che vanno considerate all'interno di un processo promozionale. Quindi, ad esempio, l'economia è importantissima, ce ne sono, ci sono altri aspetti che vanno ovviamente considerati. Perché ci tenevo a dire questo? Perché in questi mesi ci è successo di avere a che fare con artisti discretamente noti, cioè parliamo di persone anche che si avvicinavano al milione di iscritti sui loro canali, quindi non parliamo di situazioni piccole, che giustamente, che cosa subentra quando non capiamo questo rapporto? Quindi, il fatto di dire dalle nostre azioni noi dobbiamo, in ultima analisi, trarre un'economia e dobbiamo capire come si fa. Si crea frustrazione, depressione, perché, io lo posso dire, non c'è niente di bello nell'avere dei progetti che, sì, bello, numeri, questo, quello, quell'altro, poi però, come dico sempre, ci riempi il frigo con i follower, con le visualizzazioni, ci riempi il frigo con i dischi d'oro, te li mangi alla mattina, provi a tagliarle a fette a vedere se nel caffè latte sono buoni? Cioè, bisogna essere seri, ok? E questo, ovviamente, chi fa musica di professione lo sa benissimo. Purtroppo, è, in questo settore, di questi aspetti non si parla. Ma perché io dico questo? E qua, una persona potrebbe fraintendere, no? E quindi dire, ah, vabbè, quindi gira tutto sull'economia. No, non è che sto dicendo che gira tutto intorno all'economia, ma, vi riporto questo, come fate a sviluppare la vostra carriera se non avete economia? Cioè, detto banalmente, io vi porto questo per farvi vedere, per darvi degli esempi e farvi vedere che esiste un mondo diverso da quello che vivete. E vi manca, vi manca, soprattutto, a mio parere, questo tassello, perché non, le persone non sanno che cosa significa promuoversi, ma quando io dico non lo sanno, non lo sanno. Perché io dico questo? è la base sull'economia, non per essere venale, ma perché, ad esempio, se volete andare a studiare dal vostro idolo, dal migliore insegnante, secondo voi, secondo il vostro strumento, secondo la vostra specifica casistica, non mi interessa che siate musicisti, che siate produttori, che vogliate fare i performer, cioè, ok, sapete che per noi esistono professionisti dilettanti, ma, in ultima analisi, come fate? Ad esempio, io negli anni, ho, attraverso magari sacrifici, attraverso tutta una serie di aspetti, ho sempre cercato di avere le economie per fare che cosa? Per studiare da quelli che, a mio parere, erano i migliori maestri, ok, del mio strumento, o potermi affiancare a quelli che ritenevo i migliori maestri al punto di vista produttivo. Per che cosa, in ultima analisi? Per implementare le mie conoscenze, le mie capacità, le mie potenzialità e attrarre, ok, opportunità, che è quello che le persone che vogliono fare musica di professione dovrebbero imparare a fare. Perché, ultimo aspetto, e poi chiudo, altra cosa inquietante, che è inquietante, ma perché, ripeto, è un settore emotivo, è un settore artistico, quindi non c'è la capacità di essere freddi su determinati ragionamenti, ma, ad esempio, troviamo assurdo che le persone, ancora oggi, 2023, che escono da determinati istituti che dovrebbero essere professionalizzanti, eccetera, eccetera, sono convinti che serva mandare il curriculum. Quindi, voi direte, che cosa c'entra tutto questo con la promozione? C'entra e come? Perché, invece, il discorso sarebbe, dobbiamo capire come costruire un'impalcatura seria, promozionale, per attrarre opportunità. Cioè, dobbiamo avvicinarci alle opportunità, tra l'altro, opportunità di cui questo mercato, ok, è colmo, stracolmo. Quindi, ragazzi, io ve lo dico, ok, non ve lo ripeto, fate quello che vi pare. Se voi avete maturato delle competenze, se voi state studiando e siete magari alla fine di un percorso dove avete imparato e avete sviluppato giustamente e sacrosantemente delle competenze verticali, bene, ora è il momento di mettersi sotto dal punto di vista del discorso promozionale. Occhio, il discorso promozionale non è quanta visibilità ho, non è quante visualizzazioni ottengo, perché anche qua avere centomila visualizzazioni non conta nulla. Vi dirò di più, noi abbiamo delle persone che seguiamo, che studiano con noi e che applicano le nostre procedure pratiche, concrete, che hanno pochissime visualizzazioni, hanno pochissima esposizione, ma hanno un grandissimo focus e arrivano alle persone giuste. Quindi, detto banalmente, si aprono la loro partita IVA, fatturano, entrano in un dato mercato e iniziano quello che è un vero percorso professionale e questo gli consente di poter sviluppare tutta una serie di aspetti. Quindi, è un processo che io ritengo essere meraviglioso, ritengo essere, o almeno per me è stato fondamentale ed è per questo che mi impegno oggi, attraverso Music Business Italia a portare fuori ovviamente in modo organizzato questo tipo di informazioni, ok? Quindi, chiunque volesse, sapete che alla fine del mese, ok? I primi di aprile, uscirà il dizionario dell'autopromozione, insieme a questo dizionario faremo un percorso di analisi progettuale che servirà per creare, ok? una vera consapevolezza dietro a questo tema, non farvi fottere dalla fuffa che gira, poi logicamente io capisco che siccome questo video lo starai probabilmente guardando su YouTube magari e giustamente dirai vabbè è l'ennesimo guru ormai anche questa parola purtroppo viene usata così a sproposito ma per capirci che ti vuole propinare l'ennesima stronzata bene vedi tu hai di fronte a te una scelta puoi rimanere fermo dove sei oppure puoi decidere di fare un passo avanti quindi dacci un occhio se ti va se no al contrario io spero che questo video ti sia stato d'aiuto e spero veramente che riesci che riuscirai a sviluppare la tua carriera la tua professione all'interno del mondo della musica grazie arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti